ciao a tutti benvenuti a questa seconda parte oggi faremo proseguiremo sul discorso della scultura e vi farò vedere come suddividere ulteriormente quello che abbiamo creato, in questo caso è un tavolino, per andare a scolpire sulla superficie e quindi sfruttare la tessellazione di una mesh. Breve discorso, breve introduzione su cos'è la tessellazione. La tessellazione non è altro che un modo per leggere quello che noi stiamo in realtà vedendo, che non è reale, e farlo avvicinare il più possibile però alla realtà, come con l'aumentare del dettaglio della tessellazione di questa superficie fatta di quadrati che a loro volta contengono altri quadrati e a loro volta ancora altre suddivisioni man mano che si aumenta il discorso del dettaglio. Per renderci conto di questo, di quello che stiamo, che sto dicendo, dobbiamo andare per forza in Edit Mode e dobbiamo sempre con Loop Cut suddividere ulteriormente questa figura e non chiaramente per modificarla sempre in Edit, ma per andare poi in Sculpt e agire con gli strumenti veri e propri di scultura. Oggi sono con la tavoletta grafica, quindi sono più sciolto e perché c'è la necessità appunto dopo di andare diciamo a sfruttare il più possibile i punti di pressione, perché andremo a lavorare sostanzialmente sulle superfici dell'oggetto. Allora, sempre il solito procedimento, come avete visto nel precedente video, di suddivisione. E quindi, come potete vedere, in Blender c'è un costante controllo della tessellazione, perché noi decidiamo man mano l'aumentare del dettaglio. Quindi non rischiamo magari di appesantire subito una scena o un oggetto con un numero magari non necessario di suddivisioni, perché quando sono chiaramente troppe è un casino. E questo è il metodo manuale, cioè il controllo che io vi suggerisco sempre di effettuare, anziché selezionare in object l'intero tavolino e poi andare nelle proprietà di modifica, a cui vi ho accennato sempre nel video precedente, e selezionare sostanzialmente l'algoritmo specifico che vi gestisce come il multi-resolution, oppure che quell'altro, adesso che non ricordo, vi gestisce comunque, uno di questi vi gestisce quello che noi qua stiamo facendo, però con la tendenza a crearne troppi. E poi dopo, di conseguenza, il problema è che quando andate in sculpt si appesantisce molto molto, anche se avete un bel processore, una bella scheda video, dovete sempre stare attenti, perché non è scontato che anche un processore di più di 500€ possa essere sempre e comunque performante con questi tipi di software. Quindi il processo è un po' lento, però è da fare, soprattutto agli inizi, per rendersi conto di cosa dobbiamo poi dopo andare a fare per gestire il passaggio dalla modellazione alla scultura. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok, direi che può andare. Come potete vedere sulla superficie adesso c'è un diverso livello di intensità a livello di tessellazione. Abbiamo zone un po' più fitte e zone meno fitte. Questo è anche voluto perché ciò che adesso andiamo a fare è di scolpire questa superficie e rendere questo tavolino dati diciamo uno stile rustico, uno stile un po' impreciso e quindi andare a fare un cosiddetto displacement map manuale giusto per il piacere di scolpire. quindi passiamo alla modalità scultura oppure possiamo anche selezionare il preset scultura che di default si presenta così e andiamo successivamente nelle proprietà render e selezioniamo il workbench come motore grafico. e poi premendo Z selezioniamo il render e direi sì va benissimo questo colore. Sì, va benissimo questo. Io di solito aggiusto la toolbar così perché avendo un monitor largo preferisco ottimizzare lo spazio. Allora, questa è l'area di lavoro della modalità scultura, modalità sculpt. Qui abbiamo il radius che sarebbe la grandezza del pennello e qui abbiamo la forza di pressione del pennello che io di solito non tocco. Vado semplicemente a aumentare o diminuire il diametro a seconda delle esigenze. Un diametro grande è ideale quando volete dare una sorta di imprecisione a quello che state lavorando. E per aumentare l'imprecisione, ad esempio delle rocce, dovete disattivare la simmetria. Come si disattiva la simmetria? Allora, innanzitutto estendete qui. Selezionate, sì, il pennello è selezionato e nelle proprietà dovrebbe uscire, cosa strana, non ricordo perché qui non esce. Proviamo a mandare nel layout classico perché di solito nel layout classico dovrebbe uscire. Allora, ecco perché è in tool, ok, silly me, allora, è in tool. Praticamente dovete selezionare la voce di spunta sotto item, sotto oggetto c'è tool. Quindi andate in simmetria, qui in basso, e togliete completamente la simmetria dall'asse X, ok? E adesso siete liberi. Il radius direi di diminuirlo, vogliamo fare... Facciamo 25 per il momento, ok? E utilizziamo quello di base. Poi man mano vi spiegherò a cosa servono gli altri. Diciamo, non tutti, perché nello specifico io ne utilizzo 3, 4. Soprattutto questo qui, che è una specie di deformazione, sostanzialmente. Appunto perché quando, dopo la modellazione, ho definito delle proporzioni, e poi devo scendere in dettaglio, dopo l'ulteriore suddivisione, come avete visto, e ad esempio si tratta di rocce, io vado a deformare in maniera random, utilizzando la pressione e sollevando e abbassando la tessellazione della superficie. Perché sostanzialmente quello che noi vediamo ci dà la sensazione, che ne so, di una simila argilla, ok? Ma in realtà è la superficie tessellata. Ecco, forse se andiamo in solido è anche meglio, però... Eh sì, perché in solido abbiamo un po' più di precisione, soprattutto con le ombre. Allora, la base della scultura, sostanzialmente, è che se noi andiamo col tasto sinistro, con la penna corrisponde semplicemente all'appoggiare la punta della penna sulla tavoletta, o sul... non so, se avete per esempio una Sintiq, appoggiate sullo schermo della Sintiq, c'è la pressione verso la superficie, quindi andate a... di solito di default, poi lo potete anche invertire. Andate ad aumentare, ok? E già si vede, per esempio, che c'è una differenza della tessellazione. Se tenete premuto Shift, andrete a lisciare quello che avete creato. Se invece tenete premuto Ctrl, andrete a scavare. E quindi in questo caso a noi ci interessa scavare. Allora, adesso sistemo un attimo qui. Vado in Top View, vado un attimo in Wireframe, perché voglio un attimo capire in quale zona esatta io sto agendo. Ecco, per capire come funziona la tessellazione. Ok. Ritorno in solido. E comincio a lavorare sulla superficie. Direi anche 12. Ok. Ok. No. Ok. No. Grazie a tutti. 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 L'obiettivo è chiaramente quello di creare qualcosa di più irregolare possibile. Per aumentare il realismo. Perché molto spesso, ecco, noi ad esempio ancora, giusto per aprire e chiudere una breve parentesi, ancora dobbiamo toccare l'argomento dei materiali e delle texture. Il materiale è quello che dà consistenza a una superficie, cioè se la superficie è liquida, è solida, gassosa, se ha dei riflessi o meno. Sono tutte informazioni racchiuse in un database parametro, che si chiama appunto materiale. E poi, sempre all'interno del materiale, noi andiamo ad associare una texture. La texture può essere pure in 8K, ultra realistica di una venatura in legno, ma se noi prima non lavoriamo molto bene sulla scultura, rimarrà sempre una bellissima texture, ma piatta. Invece, se noi lavoriamo sulla superficie, e quando andiamo poi a fare una prospettiva, la differenza si noterà. Ed ecco perché noi, tra virgolette, perdiamo tempo, ma in realtà investiamo molto, sostanzialmente, sulle prime due fasi fondamentali, che sono appunto modellazione e scultura. Poi magari dare anche qualcosa di, una sensazione di usurato, di riciclato, magari, un legno graffiato. Poi, come potete vedere, qui abbiamo soltanto quattro divisioni. Per aumentare il realismo, e quindi rendere il tutto meno spixelloso come superficie, dobbiamo andare di nuovo in edit e, sostanzialmente, suddividere sempre di più con il loop cut, come vi ho fatto vedere prima, queste aree. Ma di parecchio, no? E quindi, di conseguenza, avremo molto, ma molto più, molta più precisione e realismo. Questo vi fa capire, questo processo anche, vi fa rendere conto anche del budget nelle grosse produzioni. Oggi, chi ha i soldi, sostanzialmente, quasi non fa quest'operazione, quasi per nulla, perché utilizzano le scansioni tridimensionali, basate sulla fotografia, di oggetti reali e di persone reali. Ecco perché c'è diversa qualità. Quindi, a quei livelli, sicuramente chi lavora dietro è bravissimo, competente, con tanta esperienza. Però, a un certo livello, quando le attrezzature sono elevatissime e i soldi sono assai, è difficile capire l'esatto livello di chi lavora dietro. Perché sicuramente, una volta che si abituano a un certo tipo di attrezzature, di budget, difficilmente torneranno indietro a fare questo. Però, per chi si avvicina veramente con il 3D e vuole capire, imparare i fondamentali, credo, umilmente, che questa sia la strada giusta per cominciare. Ok. Quindi, ritorniamo di nuovo in Sculpt. Poi, qui possiamo anche tenere premuto Shift, proprio per smussare gli spigoli, no? E rendere il tutto un po' più realistico. Ok. 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 E' chiaro che almeno una tavoletta grafica è consigliata per fare questa operazione Perché vi velocizza il lavoro e poi soprattutto la cosa più importante è che avete una sensibilità Cosa che un mouse non vi può dare con la semplice pressione del tasto sinistro Questa è una sensibilità che va a contatto con la superficie della tavoletta o dello schermo Nel caso di un altro tipo di modello Io sono più sul tattile classico Diciamo che mi preferisco, però è una cosa personale, io preferisco più la tavoletta Perché ho ancora, tra virgolette, la follia di usare la carta per disegnare Puoi magari scansionare Dipende, dipende dalle esigenze, dalle situazioni Comunque Ok Chiaro che più ci lavorate Senza magari strafare E più sarà un risultato migliore Dipende da che livello vi siete prefissi, dove volete arrivare Soprattutto se avete una referenza che consigliate In questo caso stiamo lavorando senza Giusto per mostrare cosa può fare Blender Però è importantissimo avere una referenza fotografica Magari un tavolino che volete riprodurre O qualche altro oggetto Va bene Direi che per oggi è tutto Grazie E seguitemi Ciao